Buongiorno ragazzoli e ragazzole, eccoci qua alla nostra lezione numero 11. Mi rendo conto che l'ultimissima lezione, che era quella riguardante il teatro elisabettiano, fosse un po' più seria rispetto alle solite, in cui magari ci facevamo anche due risate. Non so esattamente come andrà per quanto riguarda questa, ma vi preannuncio già che, secondo me invece quella che sarà dopo questa sarà una valle di lacrime per quel che mi riguarda, perché vi devo parlare di lui del sommo, per cui insomma mi sono già commossa solo a scriverlo quel video, figuriamoci nel mentre che dovrò registrarlo, cosa che probabilmente farò tipo adesso, così almeno via il dente e via il dolore. Ma oggi parliamo di qualcun altro, di un autore comunque altrettanto importante e sicuramente uno dei più importanti per quanto riguarda non solo l'età elisabettiana, ma proprio la storia del teatro inglese. Oggi parliamo di Christopher Marlowe, che per quanto riguarda la vita ha sicuramente avuto decisamente più opportunità rispetto a quelle che erano William Shakespeare, se non altro per quanto riguarda la possibilità di accesso agli studi. Questo fermarlo nasce nel 1564 da un ciabattino, mentre sua madre è la figlia di un ministro di Dio. Nel 1580 va all'università di Cambridge, cioè lui riesce a frequentare quella che è l'università di Cambridge, che può sembrare una stupidaggine, ma in realtà era qualcosa a cui potevano accedere ben pochi, perché se non si hanno dei soldi era un po' difficile. Dove si fa la fama di libero pensatore e di ateo. Poi sul concetto di ateo, per quanto riguarda Christopher Marlowe, ritorneremo. Attenzione perché abbiamo un concetto, all'epoca il concetto di ateo non è il concetto di ateo che abbiamo adesso. Essendo spesso assente, per un pelo non gli viene negata la laurea, ma il concilio della regina intervenne dicendo che Christopher Marlowe stava servendo sua mestà e quindi non doveva essere penalizzato. Mettetevi in saccoccia questa informazione perché ovviamente ci sono poi dei risvolti dietro a questo. Nel 1587 si trasferisce a Londra e diventa rapidamente il drammaturgo più famoso del periodo. Nel 1593, ahimè, è un periodo piuttosto nefasto per due motivi. Uno perché i teatri chiudono, perché arriva la peste. Ma Marlowe viene anche ucciso dopo pochissimi anni che scrive, sono appena sei anni che si è trasferito a Londra, durante una rissa viene ucciso. Questo ufficialmente. Ufficiosamente si dice probabilmente per le sue attività politiche e perché sapeva troppe cose. È abbastanza noto che probabilmente appunto lavorasse anche per la regina in veste di spia. Non si sa, sa di fatto che comunque sicuramente ricopriva qualche ruolo tipo politico, al di là appunto di drammaturgo. Non si è mai saputo, ci sono tantissime ipotesi e speculazioni sul come, quando e perché è stato ucciso Cristofer Marlo. Purtroppo lo sa lui, lo sa chi l'ha fatto e basta. Nella sua brevissima scarriera ha scritto sei drammi. Uno in realtà scritto in collaborazione con, che è Didone, regina di Cartagine. Gli altri sono Tamburland the Great, l'Ebrea di Malta, perché gli ho scritto in inglese i titoli, mannaggia a me, il dottor Faustus, Edoardo II è appunto il massacro di Parigi e Didone, regina di Cartagine, che appunto è stato scritto con un'altra persona. Non è niente di strano, anche Shakespeare ha scritto delle opere con qualcun altro. Infatti le prime opere di Shakespeare non si capisce bene quali è che siano, cioè si fa un po' fatica ad attribuirgli una prima opera. Ce n'è una che per, diciamo, convenzione viene detta è la prima che ha scritto, poi però se è stata effettivamente quella non c'è la certezza al 100%, molto probabilmente ha scritto dell'altro prima con altri autori, cosa che si faceva all'epoca, era proprio abbastanza comune, ma purtroppo, boh, chi lo sa. Perché Christopher Marlowe è così importante? Perché si può dire quasi sia un precursore? Perché sono le primissime opere che incarnano il nuovo spirito rinascimentale e si concentrano sulla figura dell'uomo in opposizione a Dio. I temi che vengono toccati più spesso in queste opere di Cristo Fermarlo sono il desiderio di potere, il desiderio di conoscenza, il desiderio di denaro, l'opposizione nei confronti della Chiesa e di tutto ciò che la Chiesa rappresenta e di tutte le imposizioni che dà la Chiesa e ovviamente l'ambizione sfrenata. Non sono opere didattiche, Cristo Fermarlo non vuole insegnare niente, non vuole dire vi dovete comportare così, sono queste sono le conseguenze, assolutamente. Non ci sono, ed è questa una cosa importantissima, personificazioni di vizi e virtù. Vi ricordate quando vi ho fatto il video riguardante il teatro elisabettiano vi ho rimandato anche un video precedente su quello in cui si parlava della nascita del teatro. All'inizio, nelle primissime opere teatrali, giusto per fare un breve ripasso, da prima opere di Chiesa, dentro la Chiesa, appena fuori dalla Chiesa, dopo quando si è iniziato invece a rappresentare qualcosa di originale, di scritto ex novo, si rappresentavano opere con personaggi generici, rappresentazioni di vizi, virtù, o Everyman, non vi ricordate? Everyman che è l'uomo in generale, non mio cugino Riccardo per dire, ma un personaggio generico, ok? Cioè all'epoca non appunto non veniva rappresentato un'opera in cui magari, che ne so, per due ore e mezza noi vedevamo mio cugino Riccardo che stava a discutere con sua moglie e da un certo punto questi si scannano e decidono di divorziare, scena di un matrimonio, non si chiama mio cugino Riccardo, ma vabbè per dire, cioè per dire che non c'erano rappresentazioni di vita di tutti i giorni, o di desideri umani, di un qualcosa che la persona vuole, erano appunto personificazioni, storie molto generiche su quelle che sono i vizi, le virtù dell'uomo, che esso stesso è una figura molto generica, non è nessuno in particolare, non è Fossus che ha un desiderio sfrenato nei confronti della conoscenza e per cui chiede che gli venga data la conoscenza più assoluta, la desidera fortemente. O per esempio Timberland, Timur, il conquistatore che voleva il potere infinito, lui personalmente che vuole il potere infinito, non un uomo in generale che vuole il potere infinito, proprio lui che vuole questa cosa. Quello che fa Christopher Marlowe è appunto di rappresentare l'uomo nuovo rinascimentale, l'uomo che in quel periodo non è più legato a tutti quei preconcetti del medioevo, che il destino è quello, tu devi seguire quello, ma è un uomo che è, come si diceva appunto nel rinascimento, Faber fortune suis, cioè artefice del proprio destino, c'è questo concetto nuovissimo del sei tu che decidi per te stesso, sei tu che decidi cosa vuoi fare, sei tu che prendi decisioni riguardante la tua vita, ok? Non è niente di imposto dall'altro, non è Dio che ti dice questo, che farai perché, che ne so, sei nato contadino, morirei contadino, no, sei tu che sarai anche nato contadino, ma ti fai un mazzo quadro e arrivi a, non lo so, andare a fare il commerciante, arrivi a andare a fare lo scrittore di teatro, ok? Cosa che effettivamente succede nella vita proprio di alcuni di questi scrittori veramente importanti, William Shakespeare stesso non era figlio di scrittori, e al diare di tutto ciò andare a fare questo mestiere, cioè lo scrittore di teatro, l'attore di teatro, non era una cosa ben vista, assolutamente, ne abbiamo parlato nel video precedente, uno, non avevo una gilda di appartenenza, due, non è detto che ci riuscivi, tre, non è detto che pigliavi i soldi, cioè devi trovare un patron, un mecenate, qualcuno che ti finanziasse, poi magari avrei fortuna e oltre a quello riuscivi a diventare anche azionista della tua compagnia, del teatro in cui lavoravi, ma era tutto un forse, era tutto qualcosa che stava nascendo, non c'era già una situazione prestabilita in cui io mi andavo a inserire, gli anni in cui scrive Marlo, gli anni in cui scrive Shakespeare, sono gli anni in cui sta nascendo il teatro per cui non lo conosciamo adesso, loro stanno facendo la storia del teatro, stanno creando la storia del nuovo teatro. In due in particolari tragedie ci sono riferimenti a Dio, piuttosto anche espliciti, ed è qui appunto torniamo alla definizione di ateo, Cristofer Marlo non era ateo per quanto riguarda la definizione che diamo a noi adesso di ateo, per noi adesso è ateo è non credere in Dio, Cristofer Marlo non è che non credeva in Dio, non credeva nella chiesa come istituzione, la rifiutava e rifiutava tutto quello che stava attorno alla chiesa. Applausi dalla sala, grande Cristofer Marlo, grande, io apprezzo tantissimo questa cosa. Una di queste opere appunto è Chamberlain the Great, ma l'altra più celebre, se non forse la più famosa che ha scritto Cristofer Marlo, è appunto il dottor Faustus, scritto tra il 1588 e il 1589. Faustus è l'uomo nuovo, è l'uomo rinascimentale, è l'uomo che non crede nella vita dopo la morte, è l'uomo che non chiede, non ha un desiderio generico, Faustus vuole la conoscenza, cioè già questo è una roba totalmente rivoluzionaria, capito? La conoscenza, cioè in un periodo in cui iniziano ad esserci degli studi, si inizia a scoprire che c'è un mondo al di là dell'Inghilterra, dell'Europa in generale, lui vuole la conoscenza, vuole il sapere, cioè è una roba totalmente rivoluzionale, modernissima se ci pensa, cioè voi pensate, contestualizzate l'opera, pensate a quando, cioè usciamo da un periodo che è quello dell'età del Medioevo, stiamo rientrando in un periodo abbastanza buio, che è quello dei puritani che iniziano infatti a rompere le balle, e Faustus chiede la conoscenza, io voglio il sapere, lui fa un patto col diavolo perché vuole la conoscenza, rifiuta Dio perché dice io voglio il sapere, e lo chiede, Faustus è un uomo che è un po' prometeo, un po' Icaro, prometeo perché, vi ricordate no, la leggenda ruba il fuoco agli dei per portare gli uomini, il fuoco, la conoscenza, per istruire no, ed è anche Icaro perché chiaramente fa il passo più lungo dalla gamba, cioè diciamo che valuta, non valuta le conseguenze forse perché sono un po' troppo sul lungo le conseguenze, è un personaggio modernissimo quello di Faustus, anche qui io adesso ve l'ho semplificata moltissimo, non sto a raccontarvela tutta quanta, se volete un video in particolare su Doctor Faustus, scrivetemelo, ditemelo che ve lo faccio, assolutamente io contentissima di questa cosa, adesso come adesso non ve lo racconto tutto perché magari alcuni di voi non l'hanno mai letto, io spero di avervi incuriosito nel caso, e magari qualcuno di voi se lo sta andando a recuperare, ecco è straordinario, che appunto diciamo è meravigliosa questo fermarlo, è anche un autore incredibile ecco. Mario Pratz, chi di voi ha bazzicato la letteratura inglese, liceo barra università soprattutto, ne dà una definizione meravigliosa di questo fermarlo, dice che era iperbolico nello spingere all'estremo le passioni di un uomo, io credo che sia, non so, una definizione che rende in così poche parole, rende tutto quello che è appunto questo fermarlo, che ha concentrato, sì, nelle sue opere, poche tematiche, in realtà ha anche scritto molto poco, tutto per quel che è vissuto, se ci pensate, quello che lui interessava era il desiderio dell'uomo, che fosse potere, che fosse amore, che fossero soldi, che fossero conoscenza, quello che lui ha indagato soprattutto nelle sue opere teatrali è stato questo. Quindi, fatemi sapere se avete mai letto alcune delle opere di questo fermarlo, se le avete studiate, se vi interessa un video di approfondimento sul Dr. Faustes, come sempre, questi sono video in cui ci tengo a fare veramente delle micro lezioni, ma se c'è qualcosa in particolare che vi interessa, voi ditemelo, che ne parliamo in maniera decisamente più ampia, più o meno, chiaramente, non vi aspettate mai delle lezioni troppo lunghe, io vi auguro una forte buona lezione di letteratura, qua sotto vi lascio tutti i contatti per Twitter e per Instagram, noi ci vediamo molto presto alla prossima lezione di letteratura inglese, questi video mi rendono sempre estremamente molto felice, mi piacciono tantissimo. Lo devo studiare come una pazza, perché sembra facile dire vabbè, ma tanto riassumi tutto, sono video molto corti, in realtà è un casino, perché è appunto il dover riassumere tutto quanto, che è difficilissimo. Forse sarebbe più facile parlarvi in maniera super approfondita, invece dover fare un sunto è estremamente più complicato. Ci vediamo molto presto, vi mando un abbraccio e un bacio. Grazie a tutti. Grazie.